malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene c'è una notizia che io credo quasi incredibile il principio costituzionale della difesa del risparmio in tutte le sue forme non è ripeto non è garantito in italia ora se l'avesse detto il barista sotto casa dal quale vado a prendere il cappuccino e brioche avrei detto è l'opinione del barista sotto casa peccato che sia quanto ha sottolineato il presidente della consob il professor paolo savona uno degli ultimi grandi economisti italiani che nel corso della presentazione dell'ottavo rapporto della commissione sulle scelte di investimento delle famiglie italiane affronta una serie di argomentazioni pesanti come questa in primis le discriminazioni sul risparmio di trattamento normativo tra attività di portafoglio ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio italiano in ogni forma dove è necessario garantire una parità di trattamento normativo non solo tributario tra tutte le attività possedute e già questa è una prima argomentazione pesante di savona in secundis il fenomeno della crescita dell'inflazione definita da savona una tassa iniqua e occulta iniqua perché ha un peso diverso no cioè l'inflazione su un povero un peso su un ricco ne un altro e occulta perché non è trasparente dice savona i suoi effetti potevano essere mitigati costruendo un portafoglio ad hoc in pratica una critica al governo ricordando che la funzione di utilità della politica economica deve garantire il lavoro ferma io ve lo dico da questa rubrica tutti i giorni il professor savona uno dei più grandi economisti italiani ci dice ci ricorda una roba che se dico io è una banalità per fortuna la dice il presidente della consul grazie presidente garantire il lavoro attuare una equa redistribuzione del reddito redistribuzione del reddito e tutelare il risparmio ci sono chiari gli obiettivi garantire il lavoro ridistribuire il reddito tutelare il risparmio governo meloni affermando che la politica economica seguita dopo la ripresa dell'inflazione ha scelto di privilegiare le prime due a scapito del risparmio su cui è gravato maggiormente l'aumento dei prezzi ultimo punto non per ordine di importanza sono le conoscenze finanziarie dei risparmiatori italiani non ancora sufficientemente diffuse né rispetto ai concetti di base come quello di diversificazione degli investimenti né rispetto alle tipologie di strumenti finanziari né rispetto alle dimensioni del rischio finanziario ora queste affermazioni apparse ancora una volta sul sole mi permetto di ricordare che sulla nostra costituzione non c'è scritto che la repubblica deve tutelare i risparmiatori italiani a condizioni che questi siano informati non c'è a condizione che la repubblica deve tutelare risparmio punto ficcatevolo bene nella testa questo è il punto non è che quelli che non sono acculturati possono essere lasciati morire in mezzo alla strada e chiaro buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene